e si può partire, è cominciata Casoria Ischia sul punto di battuta, traversone interessante, la palla resta al limite dell'area Simonetti di prima, Florio Arcamone Simonetti si sovrappone Mattera, Simonetti va da solo poi alla conclusione la palla rimane lì, ancora battaglia, che parata di gemito sarà interessante rivederla questa bella parata di gemito intanto vediamo, traversone profondo ancora, svetta, battaglia attenzione qui il lancio profondo, esce gemito la palla è buona, ci prova Ligoni da centrocampo per fortuna c'è Pastore sei giocatori in aria, Simonetti va dentro Pastore, che parata miracolo del portiere Rofa cerca Simonetti, il controllo, Simonetti l'uscita del portiere, palla al centro si salva, dentro Cibelli per Longo il dribbling, il tiro alla rete Ischia in vantaggio ed è un vantaggio meritato adesso alza un campanile Simonetti prova la conclusione da centrocampo ancora Trofa, si propone sulla destra Florio che corre velocissimo Trofa non lo serve, va da solo, poi prova si comincia adesso, è iniziato il secondo tempo controlla il pallone, va dall'altro lato dove Cibelli entra in aria sul destro il tiro, la parata adesso Arcamone, cambio fronte verso Cibelli pallone preciso col tacco all'indietro Florio Terracciano capisce tutto, però Florio che va via sulla destra e serve Padin al centro non si alza la batteria, due contro zero Padin da Simonetti a porta spalancata il tiro è la rete dell'Ischia contropiede Fulminio adesso entrato Liguori anticipato da Cibelli che prova a pescare Simonetti Simonetti uno contro uno con Donzetti ancora Simonetti adesso battuta la punizione, palla persa attenzione Padin può partire la posizione regolare perché battaglia teneva in campo il numero nove ancora Padin contro il portiere il tiro è il 3-0 l'Ischia ha segnato ancora prova adesso il Casoria a farsi vedere in avanti cross al centro colpo di testa la traversa eccola qui e arriva adesso il triplice fischio al San Mauro di Casoria Casoria 0 Ischia 3 a farsi vedere in acqua ti a farsi vedere in acqua